buongiorno a tutti oppure buonasera come sempre dipende come tutto nella vita un po dipende io sono antonio vi do il benvenuto a questo corso di lingua italiana livello intermedio avanzato per dirci che succede come finirà buongiorno a tutti i miei cari studenti benvenuti a questa lezione di italiano livello avanzato con antonio in questa lezione affronteremo l'ultima parte dell'unità 24 l'unità dall'emblematico titolo dello scheletro nell'armadio quindi senza ulteriori indugi vi chiedo subito di andare a pagina 134 trovarci davanti l'esercizio sul lessico ecco qui in questo caso dobbiamo fare un po i puristi e quindi dobbiamo andare a cercare i corrispettivi italiani di alcune parole straniere che sono ormai entrate nel lessico comune italiano quindi ci dice nel testo abbiamo visto parole come leader e privacy in coppia abbinate le parole straniere che seguono entrate ormai nel vocabolario degli italiani al loro equivalente in blu ve lo dico subito le parole sono otto di cui sette inglesi e una francese vediamole un attimo abbiamo la hostess che è la signora o signorina che ci fa accomodare e che ci accoglie e ci assiste durante un viaggio aereo poi abbiamo lobby che è qualcosa che facciamo per svago per divertimento per passare il tempo quindi lobby come contrario del lavoro poi abbiamo il film sul film nulla da dire questa parola famosissima qui notare che le parole vengono in qualche modo italianizzate nel senso la pronuncia viene italianizzata come abbiamo appena visto le parole hostess e hobby perdono la h nella pronuncia quindi se in inglese si diceva hostess e hobby in italiano manca quella h iniziale e anche in questo caso non sarà più film come si dice in inglese ma sarà film come si direbbe se fosse una parola italiana ok quindi film la pellicola nulla di più da dire poi abbiamo lo chauffeur questa è una parola francese lo chauffeur è una persona che guida la macchina al posto tuo ok non è il tassista è qualcuno che lavora per te e che tu paghi per portarti dovunque tu voglia andare poi abbiamo il manager il manager se sappiamo che tu manage gestire il manager è qualcuno che gestisce che dirige che controlla magari una grande azienda poi meeting un evento che comporta il trovarsi di più persone nella stessa stanza a discutere di un argomento x poi abbiamo il sandwich il sandwich non è altro che che cosa sono due fette di pane con qualcosa in mezzo questo è il sandwich poi abbiamo il monitor il monitor è quello del computer quello da cui riesco a vedere le cose per esempio anche la televisione può avere un monitor e di tutte queste parole possiamo trovare il corrispettivo italiano nella tabella blu che abbiamo di fianco quindi se leggiamo schermo a cosa pensiamo pensiamo al monitor se leggiamo riunione a cosa pensiamo pensiamo al meeting quindi devo andare a un meeting posso benissimo dire devo andare a una riunione poi assistente di volo hostess in realtà assistente di volo andrebbe bene sia per hostess sia per steward che è l'assistente di volo di sesso maschile poi abbiamo autista quindi lo chauffeur quindi una persona che lavora per te per guidare l'auto per portarti ovunque tu voglia andare poi abbiamo la pellicola che non è nulla più nulla di meno che è il film il dirigente è il manager quindi devo andare a incontrare il mio dirigente devo andare a incontrare il mio manager oppure posso dire ho una riunione col dirigente per farlo un po più anglofona un po più inglese così ho un meeting col mio manager ecco e il 50 per cento degli italiani non capirà di cosa state parlando poi abbiamo panino sandwich anche se qua penso che ci sia una differenza perché il panino è un tipo di pane fatto appositamente per essere tagliato in due e per essere ripieno di qualcosa mentre il sandwich si fa con due fette di pane che possono anche essere mangiate singolarmente però vabbè questa è una mia fissa col cibo e non ci badate più di tanto e poi l'ultima parola ovviamente passatempo hobby il secondo esercizio ci dice in coppia cercate di spiegare attraverso esempi orali o scritti la differenza tra queste parole confrontate poi le vostre frasi con quelle dei compagni quindi abbiamo tre file di parole che sono più o meno sinonimi però hanno qualche differenza la prima fila di parole è personaggio, persona, personale, personalità la seconda fila è famoso, popolare, rinomato, importante e la terza fila è sapere, conoscere, imparare, venire a sapere allora la differenza tra queste parole è meglio spiegata con esempi pratici quindi con frasi nel senso meglio usare queste parole in delle frasi e vedere un po' cosa significa dunque personaggio di solito va usato con una persona famosa per esempio posso dire che l'attore e regista Zhou Xinche è un personaggio famoso nel mondo dello spettacolo della Cina e di Hong Kong quindi per questo personaggio non sta benissimo dire persona, è una persona famosa poi persona ovviamente è una persona che può essere sia famosa sia non famosa, di solito non famosa quindi posso dire per esempio in Italia anche una persona comune sa chi è Dante o chi era Dante vedete ho usato la parola persona non personaggio, personaggio comune no perché personaggio come abbiamo detto viene usato per indicare la gente famosa oppure i personaggi di un libro o di un film o di un videogioco però raramente si usa per indicare le persone comuni poi abbiamo personale beh personale come abbiamo detto è un aggettivo e per esempio può essere abbinato con il sostantivo sfera ok per esempio posso dire la sfera personale di un attore quindi tutto quello che non c'entra nulla con la sfera pubblica ok con le cose che sanno tutti e poi personale può anche essere usato come sostantivo quindi come nome quando parlo di il personale sto parlando del gonzuo ren yuan questo è il personale che poi viene usata anche una parola inglese che è staff però anche personale va benissimo poi la personalità beh la personalità è proprio quella che in cinese si chiama una persona piena di personalità oppure uno studente pieno di personalità per esempio questo per quanto riguarda la prima fila le prime quattro parole poi ci troviamo davanti alle seconde quattro parole la fila b dunque se io dico famoso di solito famoso si riferisce a qualcuno che è davvero conosciuto da tutti per esempio posso dire che shakespeare era un famoso scrittore e drammaturgo perché è famoso perché tutti lo conoscono quindi non solo gli appassionati di letteratura e di teatro conoscono shakespeare però anche chi non si interessa di teatro o di letteratura per lo meno l'ha sentito nominare quindi questo ci fa capire che è un personaggio famoso che è stato un importante drammaturgo e scrittore se invece dico popolare sebbene popolare sembri un sinonimo di famoso diciamo che in un certo qual modo è come se restringesse la cerchia di riferimento per esempio posso dire che un cantante è molto popolare fra i giovani quindi di solito con un popolare ci sta benissimo un fra e poi la categoria di riferimento oppure se lo si usa in senso neutro senza metterci nessuna categoria di riferimento di solito è riferito a un'opera d'arte piuttosto che a un artista quindi per esempio dirà una canzone molto popolare e non un cantante molto popolare sebbene si possa dire però è molto più usato per descrivere l'opera d'arte invece che l'artista ok questo per quanto riguarda popolare rinomato restringe ancora di più la cerchia di riferimento quindi può riferirsi a qualcuno che magari è famoso soltanto per una determinata categoria di persone per esempio possiamo parlare di un rinomato professore oppure anche di un rinomato filosofo quindi se dico un rinomato professore o un rinomato filosofo significa che queste persone sono molto conosciute e anche molto apprezzate magari all'interno dei circoli accademici però una volta fuori dai circoli accademici non sono più così conosciuti e per importante vale lo stesso discorso quindi una persona molto conosciuta soltanto in certi ambiti e possiamo dire pressoché sconosciuta al di fuori di altri ambiti anche qui possiamo benissimo dire un importante filosofo o un importante professore però non sono la stessa cosa di un famoso filosofo o di un famoso professore perché quelli sono famosi per tutti invece se dico soltanto importante così come anche rinomato dico soltanto che sono importanti per alcuni circoli possiamo dire per alcuni ambiti di riferimento poi andiamo avanti e ci troviamo alla terza fila di parole allora intanto sappiamo che per quanto riguarda il parlare una lingua straniera sapere e conoscere sono ovviamente sinonimi io posso dire so l'inglese posso anche dire conosco l'inglese dobbiamo fare attenzione quando invece si parla di persone siano esse famose o meno per esempio io posso dire so chi è Shakespeare per esempio o Dante che abbiamo citato prima non posso dire conosco Dante perché se dico conosco Dante do l'impressione che io davvero lo conosca di persona quindi dobbiamo fare attenzione magari posso dire al massimo conosco l'opera di Shakespeare o conosco l'opera di Dante o magari conosco questa canzone o conosco questo gruppo musicale in quel caso lì è meno ambigua la frase anche se comunque questa ambiguità non si riscontra sempre per esempio un mio amico mi fa ascoltare una canzone e poi mi chiede conosci questo gruppo? significa ovviamente sai chi sono non significa li conosci personalmente per quanto riguarda imparare invece imparare è il processo dello studio dell'apprendimento e fin qui nulla da dire nulla di particolarmente difficile venire a sapere invece equivale grosso modo a sentir dire quando per esempio qualcuno dice sono venuto a sapere che Luigi si sposa fra un mese sta grosso modo per qualcuno mi ha detto che Luigi si sposa fra un mese quindi venire a sapere da un certo punto di vista questo venire a sapere ha anche quel carattere di non ufficialità della notizia quindi se io vengo a sapere qualcosa non sono certo che questa cosa qua sia vera quindi cerco una conferma col mio interlocutore ah sono venuto a sapere che domani parti è vero? se io invece dico so che domani parti io lo so non cerco nessuna conferma va bene adesso ci troviamo davanti all'esercizio che ci dice completate le frasi con alcune delle parole date e le parole sono la mondanità quindi il mondo delle persone famose possiamo dire violata che in questo caso sta per non rispettata quindi quando si dice per esempio violare la privacy significa non rispettare la privacy di qualcuno poi diva e beh diva è una donna particolarmente famosa e che sa di essere famosa quindi assume atteggiamenti abbastanza stravaganti se così possiamo dire poi abbiamo scandali che sono i cosiddetti chou shi questi sono gli scandali poi abbiamo la stampa rosa anche qua la stampa rosa di solito è la stampa che si occupa dei pettegolezzi ok? quindi non è diciamo la stampa seria fra virgolette ma è la stampa un po' meno seria poi la notorietà cioè l'essere noti che quindi è l'essere famosi l'intervista lo sappiamo benissimo cos'è e la curiosità anche vediamo un po' queste tre frasi allora abbiamo la grande ta 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 ha rilasciato un ta 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 esclusiva alla rivista chi? ok qui già che abbiamo la grande la grande che cosa? la grande diva sarà la grande diva ha rilasciato un intervista esclusiva alla rivista chi? ok qui intervista esclusiva ci fa capire che di solito la diva non rilascia interviste e quindi l'intervista è esclusiva cioè l'ha fatta una volta e probabilmente non la farà mai più e questo spiega perché viene considerata una diva perché ha un comportamento egocentrico e non adora particolarmente parlare con la stampa per esempio poi abbiamo i VIP godono di grande ta 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 però vedono spesso ta 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 la loro privacy ecco i VIP sono molto famosi quindi godono di grande notorietà che no? sono molto famosi sono molto noti però vedono spesso violata la loro privacy cioè molto spesso la gente non rispetta la loro privacy se io per esempio vedo un attore famoso che sta facendo colazione al bar di fianco a me io posso a violare la sua privacy e andare a chiedergli l'autografo o e dirgli ho visto tutti i tuoi film sei bravissimo oppure B posso rispettare la sua privacy fargli finire la sua colazione in santa pace non rompergli le scatole frase numero 3 la ta 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 si occupa spesso dell'attore come protagonista più di ta 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 che di film quindi la stampa rosa qui ovviamente si occupa spesso dell'attore come protagonista più di scandali che di film ok quindi per la stampa rosa è più importante che un determinato attore sia protagonista cioè sia coinvolto possiamo dire in scandali che in film perché ovviamente la notizia dello scandalo vende molto di più che la notizia di un film specialmente se è una notizia esclusiva va bene adesso ci troviamo davanti un testo da completare questo testo si chiama grande fratello spa siamo tutti spiati però prima di completarlo possiamo leggerlo così come e poi ci dice discutete siete a favore o contro la videosorveglianza nei luoghi pubblici dunque riprese al cimitero del verano contro i vandali videosorveglianza a brescia davanti alla moschea vigili elettronici per al centro di milano record di controlli a reggio emilia con una ogni 650 abitanti così in italia siamo spiati una videocamera ci segue e il grande fratello è un grande business da 1700 milioni di euro un affare ma anche un pericolo ogni 100 metri nel campo di ripresa di una videocamera senza sapere ci filma e perché per fortuna non ci pensa altrimenti vivremo nell'angoscia ok questo primo paragrafo ci mette davanti al fatto che ogni 100 metri più o meno ci sia una telecamera che ci spia e non sappiamo né chi sia a spiarci né il motivo per cui lo facciano è una cosa che davvero se ci pensi ti fa andare in paranoia però per fortuna non ci pensiamo così tanto altrimenti saremmo tutti angosciati da questa cosa qui l'allarme della deriva tecnologica nella videosorveglianza lancia Gabriele Perini presidente del garante della privacy nessuno sa sia il numero delle telecamere in funzione una cosa è certa il ricorso all'occhio elettronico è quindi c'è stato un allarme lanciato da questo presidente del garante della privacy che ha detto che ci sono tante telecamere in funzione troppe queste telecamere vengono chiamate l'occhio elettronico e nel paragrafo precedente venivano proprio chiamate come il grande fratello grande fratello come sappiamo è il cattivo principale del libro 1984 di George Orwell se non l'avete letto leggetevelo perché capirete tante cose andiamo avanti il ricorso alle telecamere è un fenomeno che negli anni ha registrato un autentico boom un business in crescita migliaia di poliziotti virtuali ci sorvegliano registrando nostro movimento da quando usciamo di casa ci filmano sui pubblici leggono la nostra targa e gli incroci ci controllano supermercati e in discoteca nella capitale ce ne sono già più 2000 in via veneto immortalata da federico fellini come teatro della dolce vita ne contano 35 una ogni 20 metri 100 sorvegliano la termini una decina la colonna traiana a roma danneggiata a tempo da vandali di fronte all'invasione della nostra del grande fratello il presidente del garante della privacy si chiede per salvarsi la vita si può perdere l'anima quindi qui da un rapido riassunto possiamo dire così sommario di tutti i luoghi nel centro di roma in cui è possibile trovare tante telecamere che spiano i passanti tutte le ore del giorno e della notte addirittura c'è una zona nella quale è possibile trovare una telecamera ogni 20 metri immaginatevi uno non può fare due tre passi che si trova davanti a una telecamera e tutto questo per evitare che degli episodi simili a quelli successi del tempo fa per esempio quello dei vandali che danneggiano la colonna traiana si ripeta un'altra volta quindi c'è una sorveglianza estrema per evitare danni all'ambiente pubblico e ovviamente il presidente del garante della privacy dice vabbè ma ne vale la pena davvero mettere insieme tutta questa sorveglianza economica che poi non solo riprende ma poi riprende e anche registra tutto quello che facciamo tutti i nostri movimenti è davvero necessario e voi cosa pensate è davvero necessario secondo me non più di tanto perché voglio dire il vandalo il malfattore trova sempre e comunque il modo per commettere cattive azioni al massimo possono servire due o tre telecamere di sicurezza nei luoghi tipo i supermercati per evitare delle rapine oppure per aiutare nelle indagini se una rapina è già avvenuta però non più di quello secondo me sempre ovviamente questa è la mia opinione personale va bene adesso proviamo a completare il testo le riprese al cimitero del verano contro i vandali videosorveglianza a Brescia davanti alla moschea vigili elettronici per l'incrocio al centro di Milano record di controlli a Reggio Emilia con una telecamera ogni 650 abitanti così in Italia siamo tutti spiati una videocamera ci segue e il grande fratello è diventato un grande business da 1700 milioni di euro l'anno un affare ma anche un pericolo ogni 100 metri siamo nel campo di una ripresa di una videocamera senza sapere chi ci filma e perché per fortuna non ci si pensa altrimenti vivremo nell'angoscia l'allarme della deriva tecnologica nella videosorveglianza lo lancia Gabriele Perini presidente del garante della privacy nessuno sa quale sia il numero delle telecamere in funzione una cosa però è certa il ricorso all'occhio elettronico è costante il ricorso alle telecamere è un fenomeno che negli ultimi anni ha registrato un autentico boom un business in continua crescita migliaia di poliziotti virtuali ci sorvegliano registrando ogni nostro movimento da quando usciamo di casa ci filmano sui mezzi pubblici leggono la nostra targa agli incroci ci controllano nei supermercati e in discoteca nella capitale ce ne sono già più di 2000 in via veneto immortalata da fedelico fellini come teatro della dolce vita se ne contano 35 una ogni 20 metri 100 sorvegliano la stazione termini una decina la colonna traiana a roma danneggiata tempo fa da vandali di fronte all'invasione nella nostra vita del grande fratello il presidente del garante della privacy si chiede per salvarsi la vita si può perdere l'anima va bene questo era il testo da completare lo abbiamo completato adesso il libro ci chiede di riflettere sulla grammatica e ci chiede di tornare per un attimo al testo che abbiamo incontrato nella scorsa lezione il testo dello scheletro nell'armadio allora ci dice che abbiamo incontrato spesso queste congiunzioni abbiamo un però oppure invece ma mentre provate a riutilizzarle in altrettante frasi magari lavorando insieme ad un compagno bene diciamo subito che alcune di queste congiunzioni sono abbastanza semplici ed è abbastanza semplice formulare una frase per alcune dobbiamo pensarci un attimo comunque andiamo avanti proviamo a fare una frase con però a me viene in mente subito una cosa del genere ha detto di dover risparmiare però ha comunque comprato il cellulare da 2000 euro vedete c'è una contrapposizione fra la prima e la seconda parte della frase poi con oppure questa anche è abbastanza facile non so se studiare oppure uscire e andare a fare una passeggiata anche qui c'è una scelta fra due parti fra due opzioni quindi non so se andare fuori oppure rimanere a casa a studiare per invece abbiamo di nuovo un'altra contrapposizione fra due parti che può essere benissimo anche una contrapposizione fra due persone per esempio dico Giuseppe studia otto ore al giorno invece suo fratello soltanto quattro vedete c'è una contrapposizione fra due persone questo invece poteva benissimo essere sostituito dal mentre ok qui attenzione perché molte persone in italiano parlato usano la forma mentre invece e dobbiamo fare attenzione perché è sbagliata perché sono due sinonimi possiamo usare o mentre o invece non insieme se senti mentre invece fa attenzione perché è sbagliato comunque potremmo anche dire Giuseppe studia otto ore al giorno mentre suo fratello soltanto quattro e ovviamente per la congiunzione rimastaci per questa ma valeva la stessa frase che abbiamo usato per il però perché sappiamo che ma e però sono due sinonimi è vero quindi potevo benissimo dire ha detto di voler risparmiare ma il giorno dopo ha comunque acquistato il cellulare da 2000 euro passiamo alla prossima domanda che ci chiede nell'articolo grande fratello spa invece abbiamo incontrato alcuni indefiniti tutti nessuno ogni sapreste spiegare la differenza tra ogni e ognuno e tra alcuno e qualcuno beh semplice semplicissima la differenza tra ogni e ognuno è semplicemente questa che ognuno si riferisce soltanto alle persone mentre ogni può riferirsi a qualsiasi cosa per esempio posso dire ogni smartphone ha la videocamera non posso dire ognuno smartphone ha la videocamera e poi dopo ognuno posso già direttamente metterci un verbo mentre dopo ogni di solito ci va un nome cioè per esempio ogni università ha una biblioteca mentre direttamente dopo ognuno posso già dire ognuno di noi è libero di fare quello che vuole finché non fa male agli altri la differenza che c'è fra alcuno e qualcuno è abbastanza simile perché di solito questo alcuno specialmente nella forma plurale quindi alcuni e alcune sta per qualche mentre qualcuno sta per qualche persona quindi di nuovo dopo alcuno alla forma plurale devo metterci un nome per esempio alcune volte mi capita di andare in quel bar dopo qualcuno non serve il nome serve direttamente il verbo per esempio qualcuno ha telefonato perché ti cercava per esempio va bene ok continuiamo abbiamo la parte g la parte g dice secondo voi la violazione della privacy è il giusto prezzo della popolarità o anche i vip hanno gli stessi diritti di chi vive nell'anonimato parlatene ecco secondo me anche i vip hanno gli stessi diritti di chi vive nell'anonimato perché perché anche i vip sono persone normali non sono dei non sono persone anormali con chissà quali poteri che sono scesi in terra dal cielo per salvarci tutti no sono persone anche loro e anche loro hanno il diritto alla loro sfera privata la domanda numero due ci chiede chi è colpevole di questo eccesso di pettegolezzi sulle persone famose la stampa i lettori o i personaggi stessi chi è il colpevole qua non possiamo andare a cercare un colpevole unico secondo me perché è una specie di gioco di tira e molla perché abbiamo la stampa che ha i suoi bei motivi per essere colpevole cioè che se scrivo di un personaggio famoso e della sua sfera privata vendo più copie i lettori hanno anche essi i loro bei motivi per esempio se io leggo di un personaggio famoso mi sento meglio perché mi accorgo che sebbene lui sia famoso è comunque una persona come me e quindi ha anche lui o anche lei gli stessi problemi che posso avere io i personaggi stessi anche loro hanno le loro colpe cioè che a volte si mettono d'accordo con la stampa con i paparazzi per essere fotografati di sorpresa che poi non è in realtà di sorpresa ma insomma è tutta una montatura tutta una finta quindi secondo me non possiamo trovare per adesso un colpevole unico è tutto un gioco di tira e molla poi abbiamo gli esercizi scritti che sono il 3 e il 4 immaginate di essere giornalisti di una rivista scandalistica ecco qua un tabloid scrivete un articolo di 180 200 parole su un divo del cinema in base a queste indicazioni locale sorpresi abbracciati accorgersi paparazzo arrabbiarsi litigio ricatto denuncia allora io ho pensato a questa storia qui sorpresi in un loto locale romano i due famosi divi dello spettacolo intenti a scambiarsi effusioni amorose mentre i due attori famosi erano abbracciati uno di questi si è accorto di un paparazzo che li spiava e li fotografava dalla strada di fronte subito l'attore si è arrabbiato è uscito e ha rotto la telecamera del paparazzo ne è seguito un litigio furibondo in cui fra le altre cose l'attore ha minacciato di sporgere denuncia nei confronti del paparazzo il motivo per cui l'attore vorrebbe sporgere denuncia è a causa di alcune foto compromettenti che secondo lui potrebbero essere materia di ricatto eccoci qua abbiamo finito questa nostra storia adesso ci troviamo davanti all'ultimo esercizio esercizio 4 che deve essere in risposta a questo testo che abbiamo appena creato ci dice immaginate di essere il personaggio protagonista dell'articolo precedente e scrivete una lettera al direttore della rivista e protestate per l'invasione della vostra vita privata quindi iniziamo con egregio direttore sono molto dispiaciuto di essere stato ancora una volta vittima di scherno da parte dei suoi paparazzi e da parte dei suoi cosiddetti giornalisti quello che è successo alcune se le fa in un loto locale romano è ormai sulla bocca di tutti e sui vari miei profili social la discussione fra i miei fan o presunti tali impazza c'è chi mi considera un poco di buono c'è chi propone l'arresto per me e c'è chi addirittura dice che non dovrei più far film dovrei essere boicottato da tutti i registi e io dico si rende conto di quello che ha fatto caro direttore con questo articolo mi ha ben sputtanato e io temo che questo sputtanamento da parte sua abbia conseguenze gravi per quanto riguarda la mia carriera e i miei futuri progetti quindi vorrei concedere al suo giornale un'intervista esclusiva nella quale mi giustifico e spiego in retroscena di questo avvenimento triste che ormai è sulla bocca di tutti che ne dice ed eccomici qua abbiamo finalmente concluso questa unità che parlava di paparazzi e di vita privata dei personaggi famosi io vi aspetto alla prossima lezione nella quale affronteremo una unità che a me a prima vista sembra molto più divertente l'unità dedicata a una pasticceria bene come al solito vi do appuntamento alla prossima lezione e vi auguro nel frattempo buono studio e buon lavoro ciao ciao